Veramente molto generoso, grazie. Sì. Allora. Qui abbiamo il grammofono. Eccolo lì. Questo è quello dedicato a... Immagabile. Non bisogno. Seno. Qua sono un po' di... Ah, di True Blue Celai? No, quello l'ho... Sai che l'ho venduti, ma più di uno in diversi formati. True Blue è andato alla grande. Era una foto di Hev Ritz, quella, eh? Ah, sì. Ah, che non ti... No, abbiamo parlato molto dei libri. C'era il mio preferito, che volevo farti vedere. Che è Jean Paul Good. Bellissimo. Di cui ho visto una bellissima mostra a Milano. L'abbiamo visto anche noi. L'abbiamo visto anche noi. È stato favoloso. Jean Paul Good, la mostra. Lui te lo ricordi? Certo. Adam Hent. Adam Hent. Che era di una bellezza sconcertante. Eh sì. Sì. Questo è il... Mohamed Ali. Insomma... Ah, questo invece è una tecnica su carta. Questo lo devi mandare a Battille Lauro. Eh sì. Questa invece è la Grausam Tochter, una cantante delle... Electro-Gothic... Sì. Nunca...